Alfonso Signorini si trova nel turbine delle critiche, provvedimenti urgenti dal Grande Fratello VIP. È un'edizione problematica. Il conduttore del Grande Fratello VIP si trova davvero nei guai. Le critiche per l'edizione di quest'anno non si ritrovano solamente sui social network, ma anche nell'organizzazione. Stessa del reality. È innegabile. L'edizione del GF VIP di quest'inverno è veramente imbarazzante. I concorrenti non sono attori, a parte Alex e Davide, e non sanno recitare. Ma al tempo stesso non riescono a costruire neanche dei legami tra di loro. Non condividono niente, e il pubblico è stufo di guardare le loro giornate noiose. Gli ascolti parlano. Settimana scorsa Alfonso Signorini si è portato a casa circa un 17% di share. Un risultato veramente deludente rispetto ai numeri dell'edizione scorsa. Come farà ad arrivare fino a marzo in queste condizioni? Se da una parte il conduttore spera nella collaborazione delle prossime entrate, dall'altra gli autori hanno fatto sentire la loro voce. A raccontare tutto è stato Amedeo Venza, l'esperto di gossip. Vediamo nello specifico cosa ha dichiarato. Sembra proprio che le scelte fatte da signorini quest'anno siano completamente sbagliate. Il GF VIP non parte e i coinquilini non riescono a trovare un legame tale da permettere la creazione di una vera e propria storia all'interno del reality. A spifferare l'opinione degli autori del programma è stato Amedeo Venza. L'esperto di gossip ha pubblicato una storia su Instagram attraverso la quale ha spiegato la situazione. Gli autori del GF VIP non sono soddisfatti da questi concorrenti, ha spiegato Amedeo. A distanza di due mesi ancora non riescono a creare dinamiche e il pubblico non riesce ad affezionarsi a nessuno di loro, in maniera importante. Poi Venza ha commentato Ieri, escludendo la discussione tra la Cipriani e Gina Maria, è stata una domenica da coma e infatti il programma ne risente a livello di ascolti.